A Barcellona si sono visti degli aggiornamenti che hanno funzionato a pieno, ma la cattiva notizia per i tifosi della Ferrari è che non sono quelli della SF23, perché la Ferrari nel Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 non ha fatto il salto di qualità sperato. Carlo Sainz ha concluso la gara in quinta posizione mentre Charles Leclerc addirittura fuori dai punti e che gli aggiornamenti consistenti apportati alla monoposto della Ferrari non abbiano funzionato come sperato lo si capisce dalle parole di Charles Leclerc che dopo la gara ha fatto notare la mancanza di coerenza nel comportamento della vettura in gara, la vettura che rimane inconsistente. Leclerc infatti ha spiegato che nel primo stint in cui montava le hard ha fatto una fatica impressionante, lo si capiva dal fatto che questo stint sia durato solamente 17 giri, mentre la scelta della hard chiaramente era pensata per allungare il primo stint. Lo stesso compound però ha funzionato abbastanza bene sulla SF23 a fine gara e la differenza è sempre la stessa e cioè la SF23 funziona molto meglio con un carico di benzina meno elevato rispetto a quanto succede ad inizio gara. Quindi questo problema non è stato risolto, ma per quanto riguarda la gara di Leclerc io sottolineerei anche l'ennesimo scambio via radio con il suo ingegnere di pista che mi ha lasciata francamente perplessa. Leclerc infatti non voleva rimontare le hard a fine gara e il suo ingegnere di pista anziché dirgli che avrebbero comunque montato le hard e non le soft come avrebbe voluto Leclerc, ha semplicemente risposto ok ricevuto prima di comunicargli che avrebbe montato le hard solamente quando era sostanzialmente già arrivato ai box. Manca autorevolezza nelle parole dell'ingegnere di pista di Leclerc e questo si traduce in una mancanza di fiducia da parte del monegasco nei confronti dell'uomo che dovrebbe aiutarlo in gara, tanto è vero che da quel momento in avanti Leclerc si è completamente ammutolito. Questo è un problema che credo possa davvero ancora diminuire la fiducia di Leclerc nel proprio team. Basterebbe semplicemente essere onesti nella comunicazione, è chiaro che il team abbia un numero maggiore di informazioni e si spera possa prendere una decisione più lungimirante rispetto a quella del pilota, ma la verità è che bisogna anche avere il coraggio di parlare con i piloti con una certa sicurezza. Tornando alla prestazione della SF23, Seleclerc ha avuto difficoltà con le hard, Sainz invece si è ritrovato in difficoltà soprattutto con le medie in uno stint in cui ha accusato un deficit molto pesante rispetto alla concorrenza. Credo che la fotografia della gara della Ferrari sia il giro successivo al sorpasso di Russell ai danni proprio di Sainz, perché in quella circostanza Russell ha subito rifilato due secondi di distacco a Sainz. È chiaro che la mescola era la stessa ma non nelle condizioni, visto che è considerato che la gomma di Sainz era 10 giri più vecchia rispetto a quella di Russell, ma fa capire come davvero la Ferrari non avesse possibilità non solo di contrastare la Red Bull, ma anche di contrastare una Mercedes che invece sembra aver lavorato molto bene su degli aggiornamenti che mi permetto di dire sono stati pensati a lungo, visto che questo è un piano B che era già stato preventivato prima dell'inizio della stagione, mentre in Ferrari si è intervenuti successivamente per cercare di mettere una pezza su quelle che sono le difficoltà palesi di una vettura. Dopo la fine della gara, Vasseur ha specificato che i problemi della SF23 sono in linea con quelli visti nelle gare precedenti, il che mi fa pensare che non ci sia stato un salto di qualità, come si evince anche dalle prestazioni fatte a registrare in pista, e ha poi specificato che c'è una potenzialità, c'è un ritmo discreto in qualifica, che però la SF23 aveva anche prima, e c'è una difficoltà nel mantenere una costanza con le gomme. Il potenziale c'è, dice Vasseur, però mi viene da pensare che questi aggiornamenti siano stati concepiti sulla base di un'incognita, perché fino a poco tempo fa la Ferrari dichiarava di avere difficoltà nel comprendere perché la macchina funzionava in un certo modo, e quindi degli aggiornamenti posti su questa base non potevano avere che i risultati che abbiamo visto in pista oggi. Vasseur dice poi che la Ferrari ha deliberato un piano per lo sviluppo nelle prossime gare, ma anche qui i presupposti sembrano sempre gli stessi, perché cambiano le gare, cambiano gli aggiornamenti, ma rimane sempre questa forte incostanza della SF23 in gara, e preoccupa perché questa vettura sembra davvero ancora un enigma, e il tempo per comprendere la macchina sta finendo. I problemi con il carico di benzina a inizio gara sembrano rimasti sostanzialmente gli stessi, e questa non è una buona notizia, soprattutto perché la Mercedes ha davvero fatto un salto di qualità, sia dal punto di vista della vettura, ma anche dal punto di vista strategico, o meglio dire, con una vettura più performante, la Mercedes ha anche giocato molto bene con la strategia, richiamando Russell ai box per la seconda sosta, e inducendo poi la Red Bull a richiamare anche Perez nello stesso giro in cui è stato richiamato Hamilton, e quindi riuscendo a perfezionare questo doppio podio, che poi si sarebbe concretizzato più avanti, grazie all'ottimo ritmo mostrato dai due piloti della Mercedes, e con una Mercedes che funziona così bene, una Red Bull che non ne parliamo nemmeno, chiaramente per la Ferrari le difficoltà si fanno molto forti. La Ferrari ha cercato di reagire ai suoi problemi con questi aggiornamenti, ma la sensazione, almeno in questo momento, è quella che la coperta resti troppo corta. Barcellona anche con il cambio di layout resta una pista indubbiamente probante, per quelle che sono le novità dei diversi team. La Ferrari non ha fatto il salto di qualità che ci si attendeva, e questa non era certamente la notizia che avrebbero voluto avere i piloti, ma anche i tifosi della Ferrari. Ma adesso voglio sapere cosa ne pensate voi della gara della Ferrari a Barcellona, una Ferrari bocciata, e quali sono secondo voi le possibilità di rifarsi di queste difficoltà, alla luce delle prestazioni dopo questo aggiornamento? Fatemelo sapere nei commenti, io intanto vi ringrazio per avermi seguita come sempre, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!